La mozione di indirizzo riguarda il campo alternativo Francesco Giuffre e afferma dei gruppi di opposizione di centrodestra, dunque dei consiglieri Miglioti, Bono, Monte, Bentivegna, Cognata, Caracappa, Maglienti e come avviene ormai da qualche mese Sant'Angelo e Deliberto. L'iniziativa scaturisce alle condizioni in cui versa l'impianto sportivo di Contrada Perriera, nonostante da tempo, venga sottolineata l'esigenza di un adeguamento funzionale della struttura. Il campo sportivo denominato Francesco Giuffre ad oggi presenta un fondo in terra battuta che risulta poco efficiente, poco praticabile e non accessibile a quanti vorrebbero assistere ad una partita di calcio. Con la mozione viene sollecitato un intervento di trasformazione del campo di calcio con un manto erboso artificiale di ultima generazione, intervento che consentirebbe un utilizzo continuo ed intensivo del campo e quindi di soddisfare al meglio le molte richieste d'uso per allenamenti e gare. Oltre ad un maggiore utilizzo l'intervento consentirebbe di garantire la sicurezza di quanti praticano la disciplina sportiva, riducendo al minimo lo stress atletico che viene provocato da un campo impraticabile. Da queste considerazioni scaturisce la proposta al sindaco di Sciacca che detiene la delega allo sport di indirizzare gli uffici alla predisposizione di un progetto da inserire all'interno del piano triennale delle opere pubbliche e quindi nel bilancio di previsione del 2019. Una progettualità che permetta, sostengono i consiglieri di opposizione di centrodestra, l'accensione di mutui o l'accesso a contributi previsti dall'Istituto per il Credito Sportivo. In particolare viene citata l'iniziativa chiamata Sport Missione Comune Bando 2019, che potrebbe permettere la realizzazione del manto erboso artificiale allo stadio alternativo, ma anche la sistemazione del manto in erba naturale del Gurrera. Grazie.